E per quale motivo dovrei fare una cosa del genere per te? Hai una motivazione valida? E si trova laggiù anche in questo preciso momento. Dimmi, tu sai che cos'è un confessionale? Ho commesso un grevissimo peccato. Su, su, sbrigati! Datti una mossa, prima finisce e prima potrai mangiare. Io tornerò. Nel momento più felice della tua vita tornerò a prenderti! Scusi, ha parlato di... Un demone? Mi può spiegare a che cosa si riferisce? Vattene via! No! Non c'è più attito. Le persone non continuano a sanguinare dopo che sono morte! Soltanto io posso prendermi cura di te. E lo farò per sempre, mio adorato. Dio, un'occhiata qui. Come vedi, non ci sono strade che partino lì. Eppure ci sono undi civili di lusso. Vi condurrò all'interno della casa. L'educazione può essere solo buona o cattiva, senza vie di mezzo. Non c'è alcuna tolleranza. I modelli professionisti e le stelle del cinema devono sprigionare un'aura semplicemente stando in piedi immobili. Questo non lo puoi fare! Mastardo! Mettene subito! Anche questo avrebbe reso più realistico il mio lavoro. Ti racconterò della mia esperienza in quel paese. Ogni promessa è debito. Sono tornato a prenderti. Heaven's Door! Si può sapere su chi sei? BASTA!